Quasi un milione di euro per famiglie speciali. E quanto investirà l'Ate per prevenire l'illegalità e dare tranquillità a diversi condomini popolari? Le famiglie che possano essere, ad esempio, a tutta la palazzina. Potrebbero essere famiglie di ex carabinieri, famiglie di militari, di forze dell'ordine, oppure dei capi scala che possano dare l'esempio a tutta la palazzina. Un investimento all'interno di molti progetti in cantiera da tempo, come la riqualificazione di queste palazzine tra la Feltrina e la strada per Castagnole a Treviso. Grazie a 46 milioni di euro arrivati all'Ater dall'Europa e da Roma, 11 edifici saranno abbattuti per dare spazio a una nuova edilizia residenziale pubblica. Da subito partiremo con due grossi interventi, uno da 32 e un 16 più 16, quindi complessivi, 64 alloggi. 64 alloggi che confidiamo di mettere a disposizione, cantierare per il prossimo anno e in giro di un paio d'anni di consegnarli alla collettività. Quando saranno abbattute tutte le palazzine, gli alloggi complessivi nell'area con nuove edificazioni saranno 113, in parte assegnati, in parte a canone agevolato. Altra novità riguarda questa palazzina non ancora terminata a causa del fallimento dell'impresa. Finalmente siamo riusciti a riappaltare l'ultimazione della L a Monigo per 24 alloggi e riusciremo ad edificare anche la L gemella che dovrebbe sorgere di fronte a quella. Nuove edificazioni ma anche interventi migliorativi degli alloggi. Sette progetti che vanno da Treviso a Conegliano, Vittorio e vari paesi. Qui sono circa 113 alloggi che vanno riqualificati con cappotti, serramenti, caldaie. L'obiettivo è quello di agevolare il pagamento, quindi ridurre le bollette agli inquilini dei nostri edifici.